Prima di tutto buongiorno, noi siamo l'azienda Demetra, organismo agricolo rigenerativo di Bergamo, siamo una realtà agricola che opera all'interno delle ultime aree agricole del comune di Bergamo, siamo praticamente i piedi di città alta, quindi dei colli bergamaschi e subito dietro delle prealpi aerobiche. La Demetra nasce principalmente per tutelare il territorio, gestire il territorio, riportare biodiversità e infine prodursi un cibo estremamente naturale. Ci teniamo tanto a dire questa cosa perché per noi l'attività commerciale produttiva, quindi produttiva e poi commerciale, è in secondo luogo rispetto all'obiettivo che Demetra si è posto, che è quello di tutelare l'ambiente e riportare biodiversità. La natura non ha bisogno dell'intervento dell'uomo per fare le cose, ha bisogno solo che l'uomo non applichi determinate tecniche che invece per la biodiversità sono estremamente deleterie, sono veramente dannose. Quindi riportare biodiversità, tutelare il territorio e tutte le cose che rientrano dentro nella filosofia che dovrebbe essere il concetto del biologico. Meno di tre settimane fa è successo che una mattina, tra il lunedì e il martedì mattina, noi avevamo uno spazio aziendale molto rustico all'aperto, hanno dato fuoco a tutto il nostro punto vendita, che era appunto all'aperto, avevamo una cella container senza motore, coibentata per tenere le temperature costanti. Qui avevamo tutti i nostri macchinari, tutte le nostre attrezzature, tutta la nostra operatività. Era qui all'interno, in giro di due ore, sono andati in fumo quasi 100.000 euro di attrezzature e di macchinari. È stato un colpo importante, il sistema che ci dovrebbe tutelare e non ci tutela. Ci è voluto di più video, denunce per alzare un po' l'attenzione e quindi poi anche da parte delle forze dell'ordine, ma in questo caso seguite anche le forze dell'ordine dovevano aspettare il risultato ed eventuali dichiarazioni dei vigili del fuoco, che dopo aver spento il fuoco, quindi di notte, dicendomi di non aver trovato l'innesco, dichiarano che potrebbe essere autoinnesco della batteria. Con una serie di video che io ho fatto e poi appunto mi hanno interpellato periti e non periti, e dalle videocamere di alcuni vicini, poi invece si nota che dieci minuti prima dell'inizio del fuoco si notano delle torce elettriche, comunque una barra due, quindi di persone che passano dal retro, quindi dall'interno dei campi e quando io arrivo dopo dodici minuti comunque vedo due situazioni completamente differenti di incendi che portano poi queste prove i carabinieri a mettere sotto sequestro l'area e dichiararla quindi idolo. Resta il fatto che ad oggi i pompieri quando non si sono fatti più vedere, quando sono arrivati con due automezzi è normale che l'acqua vada meno perché questi camion non possono portare migliaia e migliaia di litri d'acqua, ma sulle strade vicino ai condomini nuovi e delle case nuove ci dovrebbero essere queste manichette che servono proprio perché i pompieri si possono agganciare per poi reperire acqua, sembra che georeferenziato, sembra che adesso saranno anche parte delle indagini, sembra che queste manichette non ci siano, quindi venga chiamata una terza autopompa, una terza cisterna da Madone, chi è della zona sa benissimo quanti chilometri è distante Madone da qui con materiale altamente infiammabile, sono stati decine di minuti sufficienti e importanti per poi non poter più gestire e controllare il fuoco che viceversa in alcune zone molto materiale sia di attrezzature sia dei nostri prodotti, secondo me si sarebbe potuto salvare se fosse stata presa l'acqua che poi scopriamo da cittadini, da clienti essere a 150-200 metri qua da noi, quindi la cosa per me è alquanto grave anche perché se il fuoco avesse attaccato questo stabile qui vicino a noi, qui ci sarebbero state delle persone che senza acqua sarebbero potute morire dentro e siccome mi sembra di capire dalle varie persone che sto contattando del mestiere che poi le procedure anche di indagine, se ci fosse stato un ferito o un morto avrebbe preso una strada molto più veloce, non essendoci il morto o il ferito per fortuna comunque in ogni caso le indagini prendono una cosa abbastanza blanda molte cose ti devi arrangiare tu a farle, anche analizzare schede SD, delle videocamere e tutto quanto quando invece potrebbe farle il sistema perché siamo comunque cittadini che paghiamo le tasse queste cose dovrebbero essere fatte in default il sistema agricolo che qua si usa poi è il sistema rigenerativo il sistema rigenerativo senza adentrarsi troppo consiste nelle minime lavorazioni cinque anni fa qui non si è più entrati con nessun tipo di macchinario qui si fanno solo delle quindi minime lavorazioni non si calpesta dove si coltiva i camminamenti che si sono venuti a creare per creare queste baulature sono diventati appunto camminamenti per non calpestare la terra dove noi coltiviamo si fa semplicemente un arrieggiamento quindi con una forca a quattro denti dritta quella dell'etame per intenderci prima di un trapianto, prima di un trapianto dei nostri rotaggi dando una sorta di arrieggiamento per togliere quel minimo compattamento che a livello naturale nel lasso di tempo di un arco tra pioggia e neve comunque avviene ogni tanto come sto facendo adesso col badile ripristinare un po' i camminamenti perché naturalmente la baulatura tende un po' ad appiattirsi e quindi vedete poi che si va a ripristinare praticamente il camminamento si riporta la terra sopra e poi si ritorna stagionalmente con la propria programmazione a seminare e trapiantare questo orto sinergico nasce principalmente per ortaggi pian piano lo stiamo convertendo ad avere piante spontanee che noi comunque poi commercializziamo per l'alimentazione o eventualmente per tisane e quant'altro e sulla coltivazione di piante perenni che siano officinali o medicamentose questo perché l'orto sinergico all'interno dell'organismo Demetra sta avendo e ha un suo percorso e una vita propria noi facciamo dei piccoli tra virgolette passatemi il termine correzioni ma non sarebbe neanche il termine giusto dei piccoli ripristini ma tutto l'organismo poi ha una sua vita un suo percorso e una sua stagionalità noi non facciamo altro che poi cogliere e raccogliere i frutti che naturalmente avvengano ovviamente questa cosa ha portato tantissima biodiversità nel senso che all'interno di queste baulature quando noi troviamo anche solo questi buchi oltre che essere arvicole o talpe spesso e volentieri qui topi non ci sono abbiamo trovato cioè dopo mentre faccio la rieggiatura da questi buchi escono i rospi il rospo depone le uova nell'acqua ma non vive nell'acqua è un animale che esce poi di notte pascola in mezzo a queste nostre baulature quindi coi nostri ortaggi ed è un ottimo predatore è un ottimo predatore che tiene sotto controllo tutta una serie di insetti insieme a questo noi facciamo in modo che tutto che ogni anello della catena quindi anche predatori come possono essere uccelli che a noi non farebbero danno alle culture ma averli e quindi creare le condizioni favorevoli perché anche sulle piante intorno a noi loro possono edificare portano tutta una serie di vantaggi io lo dico sempre anche nei miei corsi anche con i bambini o con le scuole l'esempio è la larva della cavolaia che è una larva che è un bruco che mangia le foglie dei cavoli però viene predato dagli uncetti e dagli uccelli insettivori quindi gli uccelli insettivori se noi riusciamo a creare le condizioni favorevoli perché su queste piante e noi con le attività scolastiche con i bambini con i corsi che facciamo creiamo anche delle cassette nido specifiche per questi tipi di uccelli che li possono edificare la cavolaia l'abbiamo comunque abbiamo la farfalla bianca che vola e quindi automaticamente vuol dire che prima era bruco e che quindi ha mangiato delle foglie dei nostri cavoli ma non diventano mai problemi così preponderanti perché ci creano problemi sulla nostra produzione cioè anche noi ci siamo calati all'interno di questo anello e dobbiamo farlo di questo anello che è l'anello naturale dove un po' prendo io e un po' prende qualcun altro lavorando in manualità effettivamente anche se i macchinari sono andati persi l'agricoltura sta facendo il suo corso e quindi problemi in questo caso non ce ne sono ed è un altro obiettivo che abbiamo raggiunto grazie anche a qualcuno che ci ha incendiato il nostro punto vendita quindi il messaggio che Riccardo Tucci il nostro agronomo mi dà sempre è di vedere la parte positiva la parte positiva di quello che succede e se dobbiamo trovare qualcosa di positivo rispetto al fatto che ci è avvenuto questo è un altro risultato un altro dato che possiamo aggiungere ai nostri dati in questi sei anni di sperimentazione ecco ieri pomeriggio i primi, a parte le attrezzature proprio come rastrello, forbici che avevamo già preso siamo andati a ritirare le prime macchinari le prime attrezzature agricole e da giardinaggio grazie al contributo di tutte le persone che vi faccio vedere dal BCS, il motocoltivatore dei cespugliatori soffiatori, tosasiepi le taniche per la miscela e la benzina pompe dell'acqua le motoseghe e via si prova a ripartire questi sono i primi i primi macchinari veramente seri che siamo potuti riuscire a riprendere grazie all'aiuto di tutta la gente del contributo delle persone come Grazie a tutti. Grazie a tutti.